Aio ha deciso di togliersi la vita nel giorno del suo comprianno. Ieri sera intorno alle 22.30 una donna di 30 anni, residente in provincia di Avellino, è salita sul parapetto del ponte della Ferriera con l'intenzione di lanciarsi nel vuoto. L'allarme è stato lanciato da un passante che aveva notato la giovane, è stato confusionale nei pressi del ponte e da un familiare che aveva ricevuto un messaggio di addio sul telefono cellulari, ha allertato i carabinieri con una telefonata al 112. Providenziale l'intervento di una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia di Avellino già impegnata in un servizio di perlustrazione nella zona. Una volta sul posto, con cautela, i carabinieri hanno raggiunto la giovane che minacciava di lasciarsi cadere nel vuoto. Uno dei militari, restosi conto della gravità della situazione, è riuscito a intraprendere un dialogo con la donna. Una conversazione dal tono amicale e rassicurante che ha permesso intanto ai soccorritori di prendere tempo, di cercare di calmare la trentenne in evidente stato di crisi. Un approccio che ha consentito all'alto carabiniere di avvicinarsi a ferrare la giovane proprio mentre stava per compiere l'estremo gesto. Una volta portata in salvo e messa in sicurezza, la donna è stata trasportata in ospedale in ambulanza dagli operatori del 118 grazie alla professionalità dei carabinieri evitata probabilmente l'ennesima tragedia sul ponte della Ferriera, teatro di un'infinita escalation di suicidi. Il 21 settembre del 2022, un quarantenne infermiere di Avellino si tolse la vita lanciandosi dal ponte, una morte che sconvolse la città. Il comune nell'ottobre del 2015 dispose l'installazione delle reti di protezione ai lati del ponte ma come verificato sia anche ieri sera immagini il parapetto è ancora scoperto. L'intervento dei carabinieri ha evitato un ulteriore shock nel bollettino già da codice rosso dei suicidi in Irpinia, una provincia dove la media già alta di decessi per gesti estremi ha raggiunto negli ultimi mesi un picco preoccupante, un fenomeno su cui le istituzioni dovrebbero interrogarsi. Al di là della messa in sicurezza del ponte della Ferriera, il mal di vivere in Irpinia rappresenta sempre di più una drammatica emergenza, una strage silenziosa che rischia di allungarsi, disagi e ombre che chiedono voce e luce nel buio dell'assistenza sociale e sanitaria.